Ciao e benvenuto. Oggi ti guiderò in una breve sequenza in cui andremo a lavorare nello spazio del chakra del cuore, del quarto chakra. Lavoreremo infatti sugli inarcamenti, sulle aperture. Gli inarcamenti sono considerati nella pratica dello yoga un antidepressivo naturale. Aiutano proprio a scaldare, a aprire lo spazio del cuore e aprire lo spazio del cuore significa dare coraggio, forza e fiducia. Inoltre vanno proprio a lavorare nei polmoni, nel nostro respiro. Tutti gli inarcamenti ampliano e ci aiutano ad ampliare la nostra capacità polmonare. Quando siamo tristi o depressi tendiamo a stare in una posizione chiusa. Chiudiamo le spalle, ci ingobbiamo, il nostro respiro inevitabilmente si accorcia, diventa corto con poco spazio. Andare a inarcare vuol dire proprio rompere questo guscio, espandere il petto, aprire la capacità polmonare e cambiare aria, proprio dare nuova aria e nuova energia ai polmoni e a tutto il nostro organismo. Prana, il nostro respiro, è considerata ed è la nostra energia vitale. Tutto quello che aumenta Prana in noi aumenta la nostra energia vitale positiva e quindi oggi lavoreremo proprio nello spazio del cuore e per aumentare il nostro coraggio e la nostra fiducia. Chiedo di trovare una comoda posizione seduta sul tappetino, distendi la tua colonna, unisci i palmi delle mani al centro del petto in Anjali Mudra e poi da qui lasci i pollici e i mignoli uniti, separi gli indici, i medi e gli anulari fino a separare anche i palmi lasciando soltanto il bordo esterno delle tue mani a contatto. A disegnare la corolla di un fiore, Padma Mudra. Padma è il fiore di loto ed è proprio considerato il Mudra che va a lavorare direttamente sul chakra del tuo cuore. Gli occhi e per un istante lascia che sia il Mudra a muoversi in te, a far muovere le tue energie, andare a bussare le porte di Anahata chakra, la porta del cuore. Ma Mudra è un Mudra che guarisce e lenisce le ferite del cuore. Lo terremo per pochi istanti, tu puoi anche tenerlo in meditazione tutto il tempo che desideri quando vuoi se hai necessità di tenire le ferite del cuore. Gli occhi e per un istante le ferite del cuore. Termine del prossimo espiro, unisci piano piano le mani e riapri gli occhi. Lasci i palmi uniti, inspiri, sollevi le tue braccia verso l'alto. Ispirando, separi i palmi e scendi con le tue mani a toccare terra. Inspiri, sollevi il braccio destro, lo spingi verso l'alto e poi verso sinistra, aprendo bene il tuo fianco destro. e nell'espiro torni, sollevi il braccio sinistro, ti allunghi a destra e nuovamente torni. Ti muovi con gentilezza, con ascolto del corpo che comincia a risvegliarsi. torni, sinistra e ritorna. Lo facciamo ancora una volta per parte, destra, torna, sinistra e ritorna. Lasci i polpastrelli a terra, cammini con le mani dietro la linea dei tuoi glutei, ruoti le dita delle mani a guardare in avanti, ruoti indietro le tue spalle, avvicini le scapole, spingi lo sterno in avanti e porti lo sguardo verso l'alto e inspiri. Ispirando sciogli, sciogli la posizione delle tue gambe e ti porti in quadrupedia su mani e ginocchia. Apri le mani sotto le tue spalle, porta le ginocchia sotto le tue anche, il dorso dei piedi a terra e ispirando torni ad inarcare la schiena, le tue scapole si avvicinano, lo sguardo vai in avanti. Nell'espiro spingi bene via il tappetino con le tue mani, porti il mento al petto, gonfi la tua schiena, vai a guardarti l'addome e ancora inspiri in archi e espiri, chiudi. Inspira. Espira, senti e porti la tua attenzione e lo sguardo della tua mente nel lavoro delle scapole. senti che si avvicinano ad ogni inspiro, il centro del petto sboccia e che si separano ad ogni espiro, il cuore spinge verso la colonna vertebrale. Lo fai ancora una volta e inspiri. Espiri. raddrizzi la schiena, porti lo sguardo a terra, punti i piedi, lasci il bacino sulla linea delle tue ginocchia e cammini avanti con le tue mani, portando la fronte al suolo. Anahatasana, la posizione del quarto chakra. È proprio qui, in questa posizione, che andiamo a cominciare ad aprire lo spazio del cuore, lo spazio dei nostri polmoni. senti le scapole vicine, senti il centro del petto che comincia ad aprirsi, come se una mano gentile fra le scapole spingesse con amore verso terra. Non spingere, non tirare la posizione, lasciala naturale. respiraci dentro. Poi da qui appoggi il dorso dei piedi a terra, scivoli in avanti e ti porti a pancia in giù e trovi la posizione della sfinge. Lasci i gomiti sotto le tue spalle, gli avambracci paralleli fra di loro, spingili al tappetino con i gomiti, ruota indietro le spalle e distendi la schiena. La sensazione è quella di volersi spingere in avanti e anche qui senti il centro del petto che pian piano si ammorbidisce e sboccia. Lo sguardo è a terra, qualche centimetro più avanti rispetto alla linea delle tue mani. Non guardare in avanti, non schiacciare mai la zona cervicale in tutta questa pratica di inarcamenti. Porta sempre attenzione al collo e non spingere mai lo sguardo verso l'alto. Ispirando scendi piano piano, porti le mani sotto le tue spalle, la fronte e il suono. Spingi il pubo e il dorso dei piedi contro terra e i gomiti vicino al corpo. Inspirando spingili al tappetino e sali, piccolo cobra, non staccare il bacino da terra. Espiri, torni giù, le tue braccia non si distendono completamente. Espiri, sali, glutei morbidi, il bacino che resta a terra. Stiamo lavorando solo con la parte alta del corpo. Ancora una volta, inspiri, sali. Da qui punti i piedi e trovi il cane giù e spiragli. Distendi la colonne, spingi via il tappetino con le mani. Se ne hai bisogno, fletti leggermente le tue ginocchia, se no lascia le gambe estese. Apri le tue scapole, avvicina le tue scapole, apri il clavicolo. E ora pedali un po' la postura. Se ne hai bisogno, stendi una gamba e fletti l'altra. Mentre allunghi la catena posteriore delle tue gambe, porta l'attenzione al collo, alle spalle e alla testa, sempre liberi nella postura. Lentamente ti fermi, sollevi la gamba destra, inspiri. Accompagni il piede destro nello spazio fra le tue mani, espirando. Il ginocchio sinistro si appoggia a terra, il bacino spinge in avanti, allinea, caviglia e ginocchio destro. Se ne hai bisogno, fai qualche passettino avanti con il tuo piede destro per arrivare qua. Togli il peso dalle tue mani, sali con le braccia verso l'alto, inspiri. Espirando spingi avanti il bacino, atterri qua, inspiri. Le tue mani spingono in alto e indietro, apri la catena anteriore del corpo e poi disegni dei grandi cerchi con le tue braccia. Ancora inspiri, saliti, allunghi. Es, movimento circolare delle braccia. Ancora una volta inspira. Espirando accompagni le tue mani a terra. Stacchi il ginocchio sinistro, piede destro, indietro, cane giù. Sollevi la gamba sinistra. Corni ad accompagnare il piede nello spazio fra le tue mani. Ginocchio destro trova terra, spingi avanti il bacino, sali con le braccia, inspirando. E nello spiro atterri qua e sistemi bene la posizione. Le tue mani che spingono in alto e indietro apri bene e nell'espiro ritrovi quei grandi cerchi. Inspira. Espira. Ancora una volta in. Mani a terra. Stacchi il ginocchio destro, sinistra indietro, cane giù ancora. Rimani qui, torni a respirare nella posizione. Questa volta spingi i tuoi talloni verso terra. Respingi bene via il tappetino con le tue mani. Inspiri, sali in punta di piedi, riaccompagni le tue ginocchia al suolo. E da qui ritrovi Anahatasana. E torni a respirare nello spazio del cuore. Appoggi il dorso dei piedi a terra, scivoli avanti e ritrovi la spinge. Spingi via il tappetino con i gomiti, apri il cuore. Senti di nuovo quella sensazione di spingerti in avanti. Nell'espiro scendi, fronte, a terra, braccia lungo i fianchi. Spingi il pubo e il dorso dei piedi contro a terra. Ruoti indietro le spalle e stacchi le braccia. Ti tirano per i polsi e sali col busto a shalabasana, mantenendo per ora i piedi a terra. Espiri, scendi. Ancora inspiri, ruoti e sali. Espirando, torni giù. Ancora una volta, inspiri. Quando espiri, scendi, lasci le braccia lungo i fianchi, porti il mento o la fronte al suolo come preferisci. Le gambe sono vicine fra di loro. Pieghi la gamba destra. Il tallone va verso il gluteo e con la mano afferri il piede e aiuti col braccio il tallone a cercare il gluteo. Ruota indietro la spalla destra, vicina al gomito, lo spingi verso l'alto. E' il braccio che sta facendo il lavoro, non la gamba. Stiamo allungando quel quadricipite. Respiri qui. Mantieni l'attenzione al braccio che mantiene lungo il quadricipite e ammorbidisci e respiri nella tua coscia destra. Lentamente lasci andare. Pieghi la gamba sinistra, la mano afferra il piede, vai a fare la stessa cosa da questa parte e spingi. E sempre il braccio che sta facendo il lavoro, ruota un po' indietro quella spalla. E torni. Mani sotto le tue spalle, ruoti indietro le spalle, piccolo cobra, inspiri. Punti i piedi, cane giù, espiri. Rimani qua, apri il clavicolo e spingi via il tappetino con le mani, respira nel tuo cane giù. Lentamente da qui i tuoi piedi camminano avanti, trovano la linea delle mani. Stendi le gambe e lasci il busto morbido verso il basso. Sciogli bene collo e spalle. Come sempre se questo è troppo intenso, puoi tenere le gambe leggermente flesse. I tuoi polpastrelli sono a terra o le mani sulle tibie. Come preferisci, stendi le tue braccia, allunga la tua schiena e inspira. Nell'espiro scendi con il busto verso il basso. Lo fai ancora, l'inspiro ti gonfia e ti fa salire. Nell'espiro vieni giù. Ancora una volta inspiri. Espirando scendi col busto, fletti le tue ginocchia. L'inspiro, una vertebra per volta ti riporta su. Stendi le gambe, sollevi il busto, trovi la posizione di Tadasana. Appoggi bene i piedi a terra. Come sempre stabilizza il centro. Attiva l'addome. Pavimento pelvico che spinge verso l'alto. Piccola retroversione del bacino. La parte del bacino deve essere stabile. Non perdere la zona lombare. Lavoreremo sugli inarcamenti, ma cerchiamo di lavorare con la parte alta del corpo e non con la zona lombare che andrebbe a soffrire. Le tue braccia scivolano lungo i fianchi. Inspirando, sollevi le braccia verso l'alto. Mano destra, afferra polso sinistro. Ti allunghi verso destra. Apri il fianco sinistro. Cambi incrocio. E ritorni. Lasci le braccia stese, i palmi che si guardano. Inspiri, sguardo verso l'alto. Espirando, grande movimento circolare delle tue braccia. Lo fai ancora. Inspiri, ti allunghi, apri. Espiri, apri. Ancora una volta, inspiri. Al prossimo espiro vai ad incrociare le mani dietro la schiena. Ruoti indietro le tue spalle. Stendi le braccia verso terra. E poi allontani le braccia dal corpo. Espandi il petto. Attiva quell'addome. Non lasciare che sia la zona lombare ad aprirsi. E espiri, sciogli tutto. Ammorbidisci. Unisci i palmi, i mani al cielo. Inspirando. Espirando scendi con le mani lungo la linea mediana del corpo. Arrivi fino a terra. Stendi le tue braccia. Allunghi la tua schiena. Inspiri. Due passi indietro. Cane giù. Espirando. Sollevi la gamba destra. Inspiri. Chiede nello spazio fra le mani. Espiri. Ginocchio dietro sollevato. Tallone sollevato. Gambe forti. Braccia al cielo. Crescent pose. Espiri. Atterri qua e rimani. Se la posizione è troppo intensa puoi appoggiare il ginocchio dietro a terra e fare tutto come abbiamo fatto prima in angene yasana. Inspiri. Ti allunghi qua. Espiri. Grande movimento circolare delle tue braccia. E ancora in. Sali. Esso. Ruoti. Ancora una volta. Inspiri. Espirando. Vai ad incrociare le tue mani dietro la schiena. Ruoti indietro le spalle. Apri il cuoto. Spingi via con le mani. Espirando leggere le mani arrivano a terra. Se il ginocchio dietro è sollevato lo appoggi al suolo. Spingi avanti il bacino. La mano destra sinistra si appoggia bene sotto le tue spalle. Mano destra sul ginocchio. Apri il centro del petto a destra e spingi via. Il bacino pesante vuole andare a terra. Tu lo lasci fare. Apri. Ruoti indietro le spalle. Apri le clavicole. Allontani il centro del petto dal tuo ginocchio. E da qua vieni leggermente indietro col bacino. Sollevi il tallone sinistro che cerca il gluteo. La tua mano destra ruota e va a cercare il piede. Se hai la presa lasci cadere il bacino e ti apri qui. Se non arrivi a prendere il piede lasci il piede a terra e apri il braccio verso la parete dietro di te. E resti qui. C'è tutto. Se ce la fai afferri il piede e quel piede spinge per andare contro terra. Il bacino spinge per andare a terra anche lui ma in direzioni opposte. E la tua schiena e il tuo cuore si aprono qua. Respiri qui. Il quadricipite ti dice delle cose intense. Sì, è molto vero. Espirando lasci andare piano piano, il piede appoggia a terra con amore, non sbatte e la tua mano torna al suolo. Vieni indietro col bacino. Scivoli indietro con la gamba destra e trovi la quadrupedia. Mani sotto le tue spalle. Attivi l'addome, spalle lontane dalle orecchie. La gamba sinistra si distende parallela a terra. Fai scendere un po' il bacino, non far salire la chiappa sinistra. Lascia che il bacino sia parallelo a terra. Spingi bene via il tapetino con le tue mani. Da qui la tua mano destra si stacca e si porta al cuore. Pieghi la gamba sinistra, pianta del piede che va a guardare verso l'alto. Ti puoi fermare qua. Se la presa mano-piede non è facile per te, fermati qua. Se lo puoi fare quella mano destra, va dietro a cercare il piede sinistro. Tornano a cercarsi. Quando hai la presa spingi il piede contro la mano, la mano contro il piede. Tutto spinge verso l'alto, il cuore si apre. Ardha danurasana. Espiri, lasci andare. Ti siedi sui talloni, ti chiudi in balasana per un attimo. Sollevi il busto, ritrovi la quadrupedia. Punti i piedi, stendi le tue gambe e di nuovo cane giù. Dobbiamo ovviamente fare tutto di là. Sollevi la gamba sinistra. Accompagni il piede nello spazio fra le tue mani. Ginocchio destro può appoggiarsi a terra o rimanere su come preferisci. Sollevi le braccia verso l'alto, crescent pose. Espiri, atterri qua. Spingi quelle braccia in alto e indietro, apri la catena anteriore del corpo e nell'espiro grandi cerchi con le braccia. Ancora, inspiri, sali. Espiri, apri. Ancora una volta. E vai ad incrociare le tue mani dietro la schiena. Ruoti indietro le spalle, apri il cuore e inspiri qua. Nell'espiro leggero le tue mani trovano terra. Appoggi il ginocchio destro a terra, spingi bene avanti il bacino, allinei la posizione. Questa volta è la mano destra che si appoggia bene sotto la tua spalla destra. Mano sinistra al ginocchio. Apri il centro del petto a sinistra, spingi via. Comincia ad aprire il cuore qua, spalle lontane dalle orecchie, espandi. Di nuovo puoi decidere di fermarti qui, apri il braccio destro verso la parete dietro di te, apri il cuore qua, sinistro. Se lo puoi fare invece, pieghi la gamba destra, la mano sinistra afferra il piede destro e torni a tendere quell'arco, il piede spinge verso terra, apri il cuore. Torni a sentire il quadricipite che ti dice cose e torni a respirare proprio lì dentro. Lentamente lasci andare, riporti la mano a terra. Vieni indietro col bacino, alleggerisci la pressione prima di scivolare indietro con la gamba sinistra e ritrovi la quadrupedia. Addome attivo. Stiamo sempre lavorando su quadricipite destro, quindi è di nuovo la gamba destra che si distende. Scendi col bacino, spingi via. Mano sinistra al cuore, gamba destra che si piega, pianta del piede che guarda verso l'alto. Di nuovo puoi decidere di fermarti qua. Se lo puoi fare, la mano sinistra valla dietro a cercare il piede, piede e braccio spingono uno contro l'altro e tutti e due verso l'alto. E lentamente torni e ritrovi per un attimo ballasano. Riporti le mani a terra, sollevi il busto, cammini avanti con le tue mani e ti porti a pancia in giù. Fronte al suolo, braccio a lungo i fianchi. Andiamo a completare il lavoro. La gamba destra si piega, la mano afferra il piede. Ruoti indietro la spalla vicini la scapola. Se hai fatto fatica nelle posizioni di prima, questo non lo fai e rifai shalabasana, sollevando anche le gambe se vuoi. Se invece la mano che afferra il piede è qualcosa che ti viene bene, mano destra, piede destro, lascia le ginocchia vicine, non divaricarle. Gamba sinistra che si piega, mano che afferra il piede. Fronte a terra. Ruoti indietro le spalle, avvicini i gomiti. Ispirando sali col busto, i tuoi piedi spingono indietro e verso l'alto, stacchi le ginocchia e sali da nurasana. Largo. Torni giù ma rimani con la presa. E ancora inspiri, sali. E espira, torna giù. Lo fai ancora una volta, inspiri. E lasci andare tutto. Porti subito le mani sotto le spalle. Trovi la quadrupedia. Gonfia la schiena come facciamo all'inizio. Spingi l'ombelico verso la colonna, lascia cadere la testa, rimani fermo qua qualche respiro. Lascia che tutta la tua zona lombare respiri qui. E lascia andare. Divarichi le ginocchia, ti siedi sui tuoi talloni, cammini avanti con le tue mani in fronte al suono. E come sempre qui se preferisci appoggi la guancia o la tempia a terra e ruoti il capo. Cammini indietro con le mani, ti porti a sedere sul cappettino. Appoggi i piedi a terra. Stendi la gamba sinistra e pieghi la gamba destra. Mani incrociate davanti alla tua tibia, distendi la colonna. Gamba sinistra attiva, per un attimo attiva l'addome. Abbiamo inarcato, dobbiamo richiamare leggermente la zona addominale. Braccia stese, rimani qua, senti che è tutto frutto dell'addome che sostiene la postura. La mano destra scivola dietro la schiena, il braccio sinistro sale, inspiri. Espirando abbracci il ginocchio destro, apri il centro del petto a destra, ruoti indietro le spalle, sguardo verso la tua spalla destra. Intendi la colonna vertebrale in distensione, non cadere nella colonna, non lasciare collassare la zona addominale che ti sostiene. Ispiri, torni. Pieghi la sinistra, stendi la destra, incroci le mani davanti alla tibia, distendi la colonna, attiva leggermente l'addome. Di nuovo addome attivo, gambe forti, stendi le braccia, resta qua. Poi scivoli indietro col braccio sinistro, sollevi il destro. Ispirandoti abbracci, apri il centro del petto verso sinistra e resti in torsione. E nuovamente resti. Pieghi entrambe le gambe e ti riporti nella posizione seduta sul tappetino. Distendi la colonna, porti le mani una sopra l'altra. La che preferisci, destra sulla sinistra, sinistra sulla destra, non importa. Appoggi le mani in grembo, distendi la colonna e resta qua. Gli occhi. Chiacchè. Ciò che hai mosso, hai risvegliato. energie che si è andato a bussare durante questa pratica. Ma vadano a depositarsi, a lavorare, a fare energia e prana laddove tu hai necessità. In quel punto fisico e energetico, vi senti la necessità, energia vitale. Ne sia consapevole o no. C'è semplicemente che accade. Lentamente riporti le mani al centro del pezzo. E dolcemente riapri gli occhi. Grazie. Namaste. Grazie. 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 Grazie.